Il metanodotto SNAM è inutile. A dirlo questa volta non sono gli ambientalisti della Valle Pellinia, ma ENI. Il colosso energetico italiano ha bocciato l'opera nelle osservazioni al piano decennale SNAM 2020-2029. L'ENI, contraddicendo l'analisi costi-benefici di SNAM, stima che il costo dell'intero progetto della linea adriatica è di 1,9 miliardi di euro. La somma sarà recuperata in 40 o 50 anni, frugando nelle tasche dei cittadini tramite l'incremento delle bollette degli utenti. Il rischio, scrive ENI, è quello di innescare per decenni una spirale di tariffe di trasporto crescenti. La rete adriatica prevede la costruzione di un metanodotto che trasporterà il gas per 370 chilometri dalla Puglia a un centro di stoccaggio in Emilia-Romagna. Ma più passano gli anni e minore è la necessità di metano. Per la diffusione delle politiche green e il surriscaldamento globale, in futuro infatti ci sarà sempre meno bisogno del gas. Secondo uno scenario dell'Unione Europea, se entro il 2030 venissero realizzate tutte le opere in cantiere, si arriverebbe ad un'offerta di metano tre volte superiore all'attuale domanda. Il consumo di gas in Italia ha raggiunto il suo picco massimo nel 2005, con 86 miliardi di metri cubi. E poi è progressivamente diminuito di circa un miliardo di metri cubi ogni anno. L'opera è però preziosa per il continente, poiché la posizione strategica dell'Italia fa della penisola un importante canale di rifornimento. Eni ha messo nero su bianco che il progetto farebbe gravare interamente sui consumatori italiani i costi sostenuti per investimenti i cui benefici verrebbero goduti da altri paesi europei. A Sulmona è prevista la costruzione di una centrale a spinta e compressione, in un'area di particolare pregio naturalistico, abitata da diverse specie protette, in una zona, a due passi dalla famigerata faglia del Morrone, ad alto rischio sismico. Nonostante in questi anni le mobilitazioni degli abitanti della Valle Peligna e delle associazioni ambientaliste, il progetto SNAM non ha trovato finora ostacoli lungo il suo percorso. A luglio dello scorso anno, infatti, il Consiglio di Stato aveva bocciato il ricorso contro l'opera presentato dai comuni interessati e dalla Regione Abruzzo.